E' una storia siciliana avvenuta nel 1980, esattamente nel mese di settembre, la cui protagonista è una ragazza che allora aveva soltanto 16 anni. Questa ragazza viaggiava a bordo del suo scooter in una strada ex-orbana, è stata fermata da uno sconosciuto. Questo sconosciuto si è saltato a bordo della Vespa, si è imbattronito dei comandi, ha imboccato una stradina limitrofa che condurrà a un casello ferroviario abbandonato per mettere in alto il suo bestiale proposito. La ragazza durante il tragitto le chiede, lasciami stare, che intenzioni hai? E lui mi diceva, ora ne addivittiamo. Arrivata al casello, la butta per terra, la sveste, la ragazza con tutte le sue forze resiste, tanto che lo sconosciuto, se mi passate il termine, l'energumeno, invastidito da questa resistenza, prende una pietra e la colpisce ripetutamente alla fronte, procurandole uno squarcio che poi verrà suturato con ben 52 punti. Dirà che ha fatto finta di perdere i sensi, l'aggressore crede di averla uccisa, abbandona la scena del delitto, si imbossessa della Vespa e scappa via. Sono affezionato a questa storia, più che altro perché era una settimana che ero alla squadra mobile allora, e mi telefono all'ospedale, il dirigente mi incarica delle indagini, da questo momento come voi cominciano le indagini, nel giro di quasi 48 ore, esattamente 44 ore, dal fatto che abbiamo avuto la fortuna di individuare l'aggressore. Abbiamo notato nei pressi del pullman che conduce al posto dell'aggressione, un ragazzo con due giornali sotto le ascelle. Siamo arrivati in ufficio, ho fatto delle domande, ho cercato di far cadere in contraddizione, e a seguito di una sua risposta, io gli dico, ma come, avevo chiesto se avesse la ragazza eccetera eccetera, e mi dice no, dico ma certo, visto che tu prima inviti le ragazze, adesso ci divertiamo e poi le maltratti, le butti per terra e le rubi pure la Vespa, che vorresti, e lui dice, ma io glielo ho detto questa cosa, quando tu l'hai detto, l'altro giorno eravate due sulla Vespetta, tu non me l'hai detto, chi può avermelo detto? E lui subito, mi dice, ma chi viva è? Grazie a tutti.